Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6, l'alta pressione domina su gran parte dell'Europa centro-meridionale, anche su tutta Italia, regala quindi bel tempo e clima molto, molto mite per il periodo. Tuttavia, nel corso di questo fine settimana assisteremo ad un repentino peggioramento del tempo, soprattutto dal punto di vista termico, difatti irromperà aria più fredda dal nord Europa che farà scendere in modo netto le temperature. Già nel corso di questo sabato, 16 aprile, avremo qualche cenno di instabilità, ovvero nel pomeriggio potrebbe svilupparsi qualche rovescio, qualche temporale sulla penino, quindi nelle aree più interne, tra pomeriggio e sera, nubi in aumento anche sul resto della regione, però ancora senza particolari fenomeni. Temperature massime stazionarie, valori tra i 14 e i 18 gradi, minime tra i 5 e i 9 gradi. L'aria fredda irromperà proprio nel giorno di Pasqua, facendo precipitare le temperature anche di oltre 9 o 10 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.